Ciao a tutti e benvenuti a Coffee Break Italian To Go! Per questa prima stagione siamo a Milano, una bellissima città nel nord Italia, famosa per il suo duomo, la moda e non solo. Siamo qui per intervistare le persone che incontreremo a cui faremo tantissime domande. Parleremo con milanesi veri ovviamente, ma anche con gente da tutta Italia, così potremo sentire una varietà di accenti regionali tutti molto interessanti. Per ogni puntata ci sarà solo una domanda, ma tantissime risposte che useremo per aiutarvi a migliorare il vostro italiano. La domanda di oggi è dove abiti? La domanda di oggi è dove abiti? La domanda di oggi è quando è il tuo compleanno? La domanda di oggi è cosa fai nel tempo libero? La domanda di oggi è quanti anni hai? 20 anni. Io 55. Mi piace molto l'arte, vado spesso al museo, corro qualche maratona e cos'altro? Gioco a tennis. 14 luglio. Il mio compleanno è il 26 marzo, invece il compleanno di Pietro è il 14 dicembre. E facciamo tante feste. Facciamo tante feste. Vicino Milano, 15 km da qui, a bollate. Per maggiori informazioni potete consultare coffeebreakitalian.com. Allora è tutto, a presto, ciao!